Un vero lano a Valleluce e Claudio Stirpe a vincere con mezzo punto di vantaggio sul secondo il trofeo e Dilemme. È stata una bellissima giornata in cui abbiamo potuto finalmente ringraziare la popolazione di Valleluce per l'ospitalità che ci ha data durante questo campionato italiano a squadre, che ci ha visto finalmente promosso in Serie B. Il gioco degli scacchi è un gioco che, dal mio punto di vista, è un gioco che favorisce lo sviluppo dell'ingegno, dell'intelletto e soprattutto della tenacia. Gli scacchisti sono persone note per essere molto tenaci. Torneo di 12 partecipanti che si è tenuto a Valleluce in onore di Caissa. Si parla nuovamente di scacchi nel Cassinate e lo si fa con un torneo sociale che ha avuto la duplice funzione di offrire una competizione semilampo ai soci dell'Accademia Scacchistica e creare l'occasione per consegnare un omaggio di ringraziamento al presidente del Centro Anziani, Francesco Soave. Grazie a lui e alle sue collaboratrici, l'Accademia ha trovato una sede per gli incontri a squadre che si sono disputati durante l'anno. Secondo, Sergio Procacci di Santa Polinare. E terzo, Mario Fossataro di Sora. I premi di fascia sono andati a Massimo Megale di Sora, Domenico Procacci di Santa Polinare e Massimo Petitta di Posta Fibreno. Metà competizione si è svolta all'esterno del Centro Anziani, mentre l'altra metà all'interno causa pioggia. Il torneo, che come evento ha subito la competizione di un semilampo che si è disputato in contemporanea Venafro, ha comunque raggiunto il successo auspicato, soddisfatti gli organizzatori, tra cui Mauro Bett e lo stesso Sergio Procacci, soci dell'Accademia Scacchistica Ciociara. Grazie. Grazie.